GF Simone Ammannati Lo stacco La rottura di Rapid Eye Run Numero 3 Rapid Eye Run Sbaglia anche Runs Club Numero 8 Runs Club Scatta la squalifica per Runs Club In corta in seconda posizione Segue Ruassi Dei Greppi all'esterno Rupert Slide Più all'argo Ribes di Piaggia In bocca alla prima curva Running in vantaggio Ruassi di rincalzo Rupert Slide All'esterno Più all'argo Ribes di Piaggia In terza posizione alla corda C'è Rania Lance Poi ancora Rapia Intanto è completata la prima curva Cavalli vanno ad affrontare la retta opposta Le tribune guidati sempre da Running 600 iniziali coperti in 44 All'argo Rupert Slide In corda Ruassi All'argo scusate Ribes di Piaggia In corda Ruassi con l'argo Rupert Slide Poi Rania Lance Quindi Raffia Numero 7 Ribes di Piaggia Squalificato Lascia scoperta all'esterno Rupert Slide SM metà gara in un minuto Appena abbondante Prova la terza ruota Rommel In bocca alla curva conclusiva In vantaggio Running Il chilometro iniziale In 1.17 All'argo in calza Rupert Slide Poi In corda Ruassi Su Raffia All'argo Rania Lance Ancora Ranger Robert TRGF Poi Rommel 400 alla conclusione 1.32.5 3 quarti di miglio Running alla corda Rupert Slide Che attacca Rania Lance Che scatta in terza ruota Running in vantaggio L'attacco di Rania Lance Che va su running Rania insiste Running cerca di difendersi Ma Rania Lance è prevalente Rania Lance Che ha chiuso ormai la partita Viene a vincere Netta netta Davanti a Eh Qui viene il difficile Sul filo Raffia Appariglia completamente Running Poi al quarto Rupert Slide Su Ruassi Dei Breppi Aspettiamo di rivedere Le immagini Con la telecamera In linea Col traguardo Nettissima la vittoria Per Rania Lance Con Monica Grati 15.76 La quota Il totalizzatore Potrebbe avercela fatta Raffia A stampare Running Potrebbe essere Raffia al secondo E Running al terzo La vittoria Dicevo Per Rania Lance Monica Grati Morizio Pieve Per Rania Lance Per Rania Lance Gargify Pave Pave